Quando i soccorsi sono arrivati, Via Mollinetto era disseminata di cartelli del gruppo sportivo Alpini. Sergio Bresolin stava preparando la cartellonistica per la prossima camminata del gruppo sportivo, di cui era l'anima. Sergio era la mia classe. Lo vedevo la mattina e alla sera quando ritornavo a casa. Era un elemento veramente speciale perché era l'unico del comune di Borso che passeggiava tutte le strade del comune e raccoglieva le mondizie che trovava in strada. Non aveva figli Sergio ma era un uomo capace di stare sempre in mezzo a tutti, giovani, anziani, con la sua passione per l'ambiente e per le passeggiate lungo la pedemontana. Con queste gite paesane che faceva, poi il gruppo Alpini di Samonso lo accoglieva per fare un pranzo a me lo giorno dopo l'aveva fatto l'ascursione. Una persona buona, attenta, stimata e un duro colpo per la nostra società, sono le parole del sindaco di Borso del Grappa. Con Sergio si erano incontrati proprio ieri condividendo entrambi la passione per le camminate. Diverse le attività che sono nate a Borso grazie al suo impegno. Promotore e collaboratore di quella che era la marcia alpina all'interno del nostro comune. Sicuramente l'ha sempre portata avanti con capabilità, è sempre stata la punta di diamante di questa marcia. Conoscevo veramente il cuore che aveva come volontariato del comune di Borso. Aveva figli? No, non era sposato, ma era un personaggio che amava tutti. Amava gli anziani, i giovani e i ragazzi, soprattutto i ragazzi, con queste gite paesane che faceva. Poi il gruppo alpini di Samonso lo accoglieva per fare un pranzo a me lo giorno dopo aver fatto l'ascursione. Veramente mi è piaciuto molto quello che è successo. Veramente un personaggio da non dimenticare.